Apre plus Tre, tre, tre Ora, in un'esame, due, due, due D'accordo? Vedi, non è un po' basso Dino, tu sui ti fa un po' di sombra Ecoute Ok Ok Questa, ancora Un po' di sombra 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 Il faut quid ça a son Di fa mie Ok Ok Un po' di sombra ... ... ... ... ... Sì, sì. Il quarto filetto è partito. Fa' la mano a la poche. Il faut separer, separa. Du, un, un, due, 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 un. Quasi. Tu comprends ? Tu me comprends ? D'accord, vas-y, essaye. Qui l'angos? Il faut être coupé. Il faut coupé. C'est du mal maintenant. J'ai une question. Est-ce que je dois faire des plaisanteries rapidement ? Pas trop vite. Fais-les acheter une fois. Ok, bravo ! Merci ! Bravo ! Bravo ! Je finis de te dire, Per esempio, puoi articulare un po' più, puoi fare un po' meno legato, un po' più articulare, perché ci farà la differenza con la mano gauche. C'è tutto, non più. Grazie. 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 Grazie.